Dopo la decisione dei vertici della multinazionale Unilever del 27 febbraio scorso, ossia quella di avviare la procedura di licenziamento collettivo anche nello stabilimento di Pozzilli, i sindacati hanno chiesto e ottenuto di poter discutere con i rappresentanti della proprietà con il chiaro obiettivo di raggiungere un accordo condiviso che permetta perlomeno di limitare i danni. I 34 esuberi annunciati non hanno sorpreso più di tanto le organizzazioni sindacali, ma a questo punto si aspettano che la proprietà venga incontro alle esigenze di quei lavoratori che loro malgrado si ritroveranno fuori dal ciclo produttivo. Incentivi all'esodo, eventuale periodo di cassa integrazione e possibili soluzioni che permettano di attenuare gli effetti della legge Fornero sono state alcune delle questioni affrontate durante il tavolo di confronto che si è tenuto nella sede di Sernia dell'Assindustria. Non è un fulmine a ciel sereno, in quanto per le aziende che operano e cercano di consolidare le aziende, ovviamente questo è un passo obbligato, è un appuntamento obbligato, per cui noi del sindacato eravamo già ben informati e quindi adesso attiveremo tutte le nostre capacità, tutta la nostra professionalità per cercare di alleggerire l'impatto sul discorso sociale. Quindi sensibilizzeremo l'azienda affinché si faccia carico di questioni abbastanza delicate perché parliamo anche di postazioni di lavoratori e lavoratrici giovani che non hanno uno sbocco pensionistico con la mobilità. I sindacati invitano inoltre la classe politica nazionale e regionale a intervenire velocemente con provvedimenti efficaci e adeguati che tengano conto delle vere esigenze delle aziende e dei lavoratori. E ora dicono le organizzazioni sindacali di mettere un freno a questa emorragia di posti di lavoro che sta mettendo a dura prova l'equilibrio socio-economico del territorio.